Signor Bove, con tutto questo entusiasmo, ne vale la pena sostenere qualche sacrificio? Assolutamente sì, è una grande soddisfazione e sono veramente grata di cose che hanno sostenuto la settimana sempre, oggi in particolare. E che cosa promette per il prossimo anno? Ma intanto pensiamo oggi a vincere questa partita che è importantissima e poi ogni cammini faremo domani a Sborgne a Smaltese. Allora lei mi dà l'appuntamento dopo la partita? Certamente. In bocca al lupo, signor Bove, grazie.